Come si inizia un vero lavoro di restyling? Dalle basi che sono le fondamenta su cui poggiare il successivo cambiamento estetico del mobile. Senza di esse ogni progetto, anche il più bello, è destinato ad avere dei limiti o a fallire, proprio come un edificio. Un buon lavoro inizia da buone basi. Questo è un po' il mio motto e deriva dalla mia esperienza diretta. È da queste fasi iniziali che si impara il vero restyling, quello autentico che nasce dalla passione e si prende cura del mobile da trasformare fin dall'inizio, fin dalle sue prime fasi. Cosa imparerai nei 12 video che compongono questo videocorso? Innanzitutto ad analizzare il mobile che hai davanti ogni volta per vedere quale problematiche presenta, con quali prodotti e strumenti puoi risolverle. Vedrai come si eseguono trattamento antimuffa e antitarlo con camera a gas, come si eseguono le stuccature per eliminare graffi, buchi, lacune, come rasare con gli stucchi e che tipologia di stucco di volta in volta è più adatta per ogni tipo di problema. Poi come stendere correttamente il fondo per legno, come levigarlo e prepararlo e soprattutto perché è importante eseguire bene questa fase. E ancora vedrai qual è la sequenza più adatta per eseguire le varie fasi di trasformazione, la carteggiatura, la pulizia, l'antitarlo, la stuccatura eccetera. Conoscere ed eseguire correttamente queste fasi farà davvero la differenza, la qualità del tuo lavoro è il tuo biglietto da visita. Nel corso dei 12 video che compongo nel videocorso ti accompagno, ti mostro e ti spiego nel dettaglio ogni singola fase, passo dopo passo. Nel restyling la qualità dei prodotti è sì certo importante, ricorda tuttavia che la vera differenza la puoi fare solo tu.